Buonasera a tutti, benvenuti. È un grande piacere presentare il professor Andrew Wallace Hadrill. Un piacere aumentato dal fatto che Andrew Wallace Hadrill è inafferrabile. È stato difficile, lui sa quanto, appunto, riuscire a trovare il modo di farlo venire a Pisa e quindi essendo ovviamente un star internazionale, il privilegio di averlo qui appunto è stato faticoso ottenerlo. Tanto inafferrabile è lui, la sua presenza fisica, quanto forse è difficilmente afferrabile anche il suo profilo di studioso perché è un profilo molto ricco, molto complesso. Cos'è? Lui che si interroga sulla identità delle cose. Cos'è e chi è? Andrew Wallace Hadrill è uno storico, uno storico sociale, un archeologo, uno storico dell'arte antica, uno studioso della mentalità, ma soprattutto direi è uno studioso degli spazi, degli spazi pubblici e privati e di come l'uso degli spazi definisce l'identità culturale di chi li abita o li frequenta. È uno studioso che soprattutto ha ridefinito la natura e le dinamiche dei processi di ellenizzazione e romanizzazione, che intanto appunto lui vede come fenomeni di portata molto più ampia di quelli che solitamente venivano inquadrati in uno spazio cronologico appunto più limitato, tendenzialmente connesso all'età augustea e soprattutto li vede come fenomeni interconnessi, cioè inscindibili, che analizza e con effetti reciproci, reciproci nelle direzioni duplice, che analizza nelle svariate sfere, oltre a quella linguistica, in cui si manifestano soprattutto nella cultura materiale, diciamo in manifestazioni che vanno dall'abbigliamento ai consumi di lusso. In questo senso forse questo libro appunto, Roms Cultural Revolution, è io credo il suo libro più rappresentativo, lui forse non è d'accordo, ma la mia impressione appunto è che sia un libro ricchissimo, che lo definisce meglio. Wallace Adril è stato per molti anni direttore della British School a Roma, per un quindicennio, e conosce il territorio italiano così come conosce l'italiano in maniera perfetta direi, la lingua ma anche la cultura appunto, ha lavorato a lungo su Ercolano e Pompei, la sua bibliografia ovviamente è tanto imponente quanto varia, e va da libri su Svetonio a libri di cui è stato editor o co-editor come quello sul padronato nella società antica, il libro su città e campagna nel mondo antico, siamo negli anni tra gli 80 e l'inizio dei 90, poi è del 1994, un libro fondamentale pubblicato a Princeton, Houses and Society in Pompei and Herculaneum. Del 1997 è un altro libro coedito sullo spazio domestico nel mondo antico, Pompei e oltre, del 2008, è questo libro che dicevo appunto, Rome's Cultural Revolution, del 2011 è un libro su Ercolano, passato e futuro, tradotto anche in italiano dall'erma appunto, male, è venduto soprattutto a prezzi, come è noto, molto alti. Ma oltre ai suoi molti libri, i lavori di Wallace Adriel si trovano, ci sono molti suoi articoli che si trovano, diciamo ovunque, nelle bibliografie degli studi di cultura classica, soprattutto latina, articoli che hanno rappresentato punti di riferimento molto importanti, come appunto quelli sul patronato letterario, sulla corte, per esempio la corte imperiale, sulla figura dell'imperatore, articoli famosi sulla civilitas dell'imperatore, o sulle sue virtù, quali sono appunto le virtù imperiali. Ricordo altri lavori dell'età dell'oro nell'ideologia augustea, oppure appunto lavori sul lusso e sui consumi connessi, connessi ai diversi livelli sociali, non solo appunto il fenomeno dei consumi di lusso da parte dell'elite, ma anche limitazione dei consumi di lusso da parte di, diciamo così, una sub-elite culturale e sociale. Ma naturalmente soprattutto si è occupato dello studio dello spazio e dell'uso dello spazio. Non meno importanti sono alcune sue recensioni, molto rimaste famose, forse più di tutte, quella che dedicò al lavoro di Zanker, Paul Zanker, su Augusto. E le immagini appunto, il libro di Zanker usciva poco oltre la metà degli anni Ottanta, la sua recensione dell'Ottantanove, cioè esattamente 50 anni dopo il libro di Saim del 1939 sulla rivoluzione romana e nel recensire il saggio di Zanker a cui appunto attribuisce un valore di tappa fondamentale, lo definisce appunto il più significativo contributo alla comprensione della Roma Augustea dal libro di Saim appunto dal 1939. E' appunto una recensione importante, è un po' la base, perché il titolo della recensione è il titolo che poi verrà ripreso in questo saggio Rome's Culture Revolution, che dice anche il passaggio che, secondo Walla Sadri, la differenza, diciamo, è la nuova definizione di questo fenomeno diciamo prodotto dalla Roma Augustea e è un lavoro appunto che ridefinisce paradigmi classici del dibattito storiografico in cui apporta veri e propri mutamenti come per esempio il concetto di propaganda e quindi diciamo anche in questo caso è il nucleo di un lavoro che poi avrà uno sviluppo molto più ampio. Un ultimo tratto del suo profilo culturale che mi piace ricordare a prova della sua grande capacità di divulgazione grazie anche a un linguaggio brillante e erguto sono i suoi lavori televisivi. E' una star appunto anche televisiva perché ha lavorato in alcuni programmi della BBC trasmessi anche in Italia. Io lo scoprì dal mio dentista che era, sì, non conoscevo questi lavori trasmessi anche in televisioni italiane non ricordo quale appunto fu lui che mi parlò di un professore molto spiritoso e molto simpatico appunto era rimasto anche molto colpito non a caso dalla Mary Bird ovviamente e comunque appunto anche questo è un tratto importante del lavoro dell'attività intellettuale diciamo e del lavoro di Wallace Adril e anzi ci viene spesso additato a noi noiosi accademici italiani come un esempio di come gli inglesi sanno essere più brillanti e interessanti rispetto a noi. Non gli rubo altro tempo lo ringrazio ancora di essere qui e gli scedo volentieri la parola. Soprattutto troppo perspicace mi sento esposto, rivelato mi hai rivelato delle cose che non sapevo neanche io e sono grato che metti l'enfasi sul libro Rome's Cultural Revolution perché in verità mi conoscono come lui che lavora su Pompei, Ercolano e lo trovo frustrante spesso di essere caratterizzato soprattutto quando capita questa Mary Beard e fa finta di essere un'esperta su Pompei e Andrew su Ercolano. No, tutti e due abbiamo un'altra vita. Allora, solo un amico può fare un'introduzione così e solo un amico ha potuto convincermi di venire da voi. Lui ha una grande capacità di convincermi di fare le cose che non dovrei fare. Infatti, in tutto l'elenco delle cose che ho fatto dove capita Properzio? Dove capita Ovidio? Dove si vede i poeti latini? Però sono stati i miei amici italiani che mi hanno invitato a diversi convegni dicendo no, Andrew, tu devi parlare facciamo un convegno su Ovidio ci puoi dare qualcosa e così via. E per caso ho trovato che ci avevo qualcosa da dire e sono contentissimo di poter fare un po' un rasunto di due saggi che ho fatto. uno su Properzio uno su Ovidio con la stessa domanda del rapporto tra letteratura e arte nella Roma di Augusto. E forse avete capito che il mio interesse nella trasformazione della cultura romana implica una convinzione che non possiamo semplicemente studiare i poeti o semplicemente la pittura si deve capire le connessioni. Allora il mio tema per oggi è la connessione tra l'arte e la letteratura nella Roma augustella e forse la cosa non ho tempo di entrare in dettaglio su questo tema ma possiamo cominciare con un'immagine della Roma stessa una Roma molto diversa da quella repubblicana una Roma estremamente culturata dove Augusto ha creato tantissimi nuovi edifici ma lui ha una preferenza proprio per le gallerie d'arte si chiamano portici si chiamano diverse cose ma ogni volta c'è un'altra galleria d'arte e lo sappiamo grazie a Plinio il Vecchio onestamente senza di lui non sapremo niente dell'arte greca soprattutto di pittura a Roma ma ci ha dato un'immagine molto chiara della presenza di tutti i pittori tutti i scultori importanti erano rappresentati a Roma è chiaro che i poeti conoscevano questo materiale quello che abbiamo noi è un riflesso molto sbiadito abbiamo i muri di Pompei è molto importante non esagerare l'importanza di questi questi pareti e la pittura pompeiana che è di una bassissima qualità in rispetto a quello che non abbiamo che era a Roma ma almeno da questo possiamo avere un'idea di un mondo dove la pittura era molto importante allora le domande che faccio qual è stato l'impatto di queste pitture sull'immaginazione dei poeti da una parte e per questo parlo di Properzio e dall'altra parte qual è l'impatto dei poeti sulla pittura e per questo parlerò di Ovidio ok potete interrompermi a qualsiasi momento anzi ne sarei grato perché sarò la vittima di un testo davanti a me allora se volete vi ho dato un handout lunghissimo mi scusate non è che dovete leggere tutte le parole ma potete tornare dopo e riflettere volendo metto esattamente gli stessi brani sul powerpoint cominciamo con Properzio ciò che l'amante e l'artista condividono è l'importanza dell'uso degli occhi Properzio è straordinariamente sensibile alla visione e agli occhi cinzia prima suis miserum mecapit o kellis può essere qualsiasi parte di una donna che ti attrae ma sono gli occhi che sono importanti per lui si tratta allora posso mandare avanti sì si tratta di un tema sul quale si sofferma volentieri la notte di piaceri di Properzio è caratterizzata non dall'oscurità ma dalla luce nox candida la notte bianca dal momento che hanno accanto al letto una lucerna della fiamma luminosa vi do un esempio di una fiamma con qualche suggerimento di che cosa fare con questa luce quam multa appositana ramus verba ducerna cinzia mette in piedi uno spettacolo tutto da ammirare alle volte scoprendo il seno e rivelando al suo sguardo altre volte coprendolo e rallentando la visione ma il suo amante perde le forze gli occhi che si chiudono di sonno e lei che li apre con un bacio il la meo somno lapsos patefecit ochellos ori suo ed dixit sicchine lente jacques dall'inizio a occhi spalancati procede verso la morale della storia ossia che fare l'amore al buio non dona gioia e che gli occhi in caso non si sapesse fanno da guida in amore non iuvat in caico venerem corumpere motu sin eschis oculi sunt in amore ducese attraverso esempi mitologici propertio sviluppa l'idea che la visione specificamente quella del corpo nudo sia ciò che guida il desiderio Elena era nuda quando pari di le misi gli occhi addosso e non si tratta solo del desiderio maschile per il corpo femminile dal momento che Endimione era nudo quando Diana se ne invaghi il delegato corpo di Cinzia non deturpato dalla gravidanza merita di essere ammirato e lo stesso corpo del poeta anche se solo implicitamente è degno di uno sguardo dunque che entrambi delizzino i propri occhi prima che la notte eterna cali su di loro dum nos fatas inunt oculos satiemus amore nox tibi longa venit non reditura di es la nox candida della fiamma della lampada è dunque un richiamo alla nox lunga della morte vedere equivale a vivere che l'amante debba servirsi sia dei propri occhi sia di quelli della donna è evidente ma qual è in questo caso lo scopo degli esempi metodologici Elena endimione inutili dire che rappresentazioni di Elena e endimione nudi erano assai comuni nell'arte antica ma erano anche estremamente noti in poesia e qui come nel caso della maggior parte degli esempi mitologici di Properzio è incredibilmente arduo stabilire se il poeta avesse in mente delle rappresentazioni pittoriche onestamente non so perché chiediamo che cosa ci aveva in mente il poeta non possiamo entrare nella mente del poeta la domanda che cosa suggerisce al lettore quando lui parla di questo esempio e quello che voglio convincervi è che necessariamente loro avevano le immagini negli occhi loro quelli che leggevano Properzio uno scettico potrebbe rifiutare qualsiasi riferimento all'arte come estraneo e potrebbe perfino essere d'accordo se non fosse per l'enfasi sulla nudità nudalakaina nudus et indimion nudai deai la nudità è infatti un tema centrale all'interno dell'elegia ma fino a che punto era effettivamente importante nei precedenti racconti poetici della scena la rappresentazione del nudo nudo oh ah questo per dimostrare indimione allora la rappresentazione del nudo è essenzialmente una specialità dell'artista basti pensare all'eneddoto riportato da Cicerone su Zeusi al quale fu commissionato dagli abitanti di Crotone un dipento di Elena per il tempio di Giunone l'artista necessitava di un modello e venne pertanto accompagnato al ginnasio ad ammirare gli splendidi giovani di Crotone i maschi e gli fu chiesto di immaginare quanto fossero belle le loro sorelle fa ridere di questa idea dei genitori che volevano proteggere le fanciulle ma egli insisteva di vedere vuole vedere le figlie della brava gente di Crotone affinché posassero per lui i crotoniati rimassero scioccati dalla richiesta ma cedettero e la Elena di Zeus divenne l'esito delle caratteristiche migliori delle più belle fanciulle di Crotone cinque di loro ha messo insieme se in questa elegie l'allusione alla pettura le allusioni non sono esplicite altrove Properzio dichiara apertamente il proprio interesse per i dipinti quando immagina un viaggio ad Atene non sono solo la filosofia la ritorica e la commedia ad attirare la sua attenzione ma anche la pittura e le opere in avorio e bronzo si noti l'espressione da lui adottata capient mea lumina così come Cinzia aveva fatto all'inizio le pitture di ragazze non hanno solo lo scopo di suscitare interesse negli uomini ma possono anche stimolare un senso di participazione nelle donne e Properzio è consapevole che gli incubi e le rappresentazioni pittoriche della soffrenza possono essere ugualmente scioccanti le pitture sono in grado di fornire informazioni sugli angoli più remoti del mondo come Aretusa si lamenta con il proprio amato di Cota lontano per gli obblighi militari non può fare altro che apprendere di quei mondi distanti dalle pitture cogor et at tabula e tabula pictos e discrimondos si chiede chi fosse il pittore di aver dipinto il primo amore come un fanciullo chi fosse ad aver avuto un tale colpo di genio quicum qui illi fuit purum qui pixit pixit amorem il nudo cupido con il suo arco e le frecce è un cliché ritrito dalla pittura antica ma è anche un cliché degli epigrammi ellenistici ma inutile chiedere di quale sta pensando in questo mondo dove sono uguali perché dunque fa riferimento alla pittura perché properzio c'è un'immagine ben fissa nella propria mente in me tela manet et puerilis imago non si tratta di frecce puramente metaforiche che si sono conficcate in lui ma di un dipinto una puerilis imago il poeta ci parla non tanto delle fonti ma della propria immaginazione la pittura rappresenta anche per i giovani un'esplicita fonte di conoscenza sulle pratiche sessuali e properzio con l'occasione di muovere una protesta tradizionale contro la pornografia è una cosa che mi compisce molto come il dibattito moderno intorno alla pornografia non è tanto diverso che quello antico quai manus obscenas depinxit prima tabellas ed posuit casta turpia visa domo casta domo a casa loro illa puelarum ingenuos corrupito cellos gli occhi questa parte fondamentale dell'anatomia sono corrotti neiquiti ai qui suai non lui tessi rudis e vi offro questa immagine che è della della casa mi sfugge il nome della casa dove gli sfidesi hanno fatto un progetto per lunghi anni e poi dopo hanno fatto una mostra bellissima a stockholm e come pubblicità per la mostra hanno scelto quell'immagine lì e l'hanno messo nella metro e c'erano proteste non potete mettere la ponografia così nella metropolitana nostra e hanno tolto la pubblicità e poi c'erano altre proteste non potete togliere immagini dell'antica pittura e hanno rimesso le immagini ma questo ti dice che hanno sempre un impatto che è rilevante per noi è troppo semplice tracciare una linea di confine netta tra ponografia e pittura mitologica secondo Plinio il grande parasio rivale di Zeus si dilettava nel dipingere libidine sulle tavole più piccole e uno di esseri che stando a Svetonio attirò l'attenzione di Tiberio raffigurava Atalanta in una scena di sesso orale con Meliagro ciò equivale a dire che la mitologia può essere o la rappresentazione della mitologia può essere iponografica così come le prostitute servivano regolarmente da modelle per i pittori Plinio riferisce che Alessandro aveva commissionato ad Apelle un dipinto della propria amante Pancaspe senza veli e aveva poi consentito che devenisse l'amante del pittore così che servì poi come modella per la sua afrodite Anadiomene non non è importante se è vero o no ma l'idea che c'è una connessione tra il mondo vero del sesso e il mondo dell'arte è così con la poesia è importante come Alessandro anche Properzio era ben disposto a far divenire la propria amante una modella Cinzia è infatti una seconda Elena E chi può dire se l'Europa e l'Asia andranno in guerra per una tale bellezza la bellezza di Elena è stata catturata come abbiamo visto da Zeus attraverso la selezione delle più incantevoli fanciulle di Crotone Properzio propone una modella ancora migliore si ques vult fama tabulas anteiri vetustas hic dominam exemplo ponat in arte meam il poeta vede il suo progetto come parallelo a quello del pittore proprio come Zeus aveva ricavato dalle modeste fanciulle di Crotone l'immagine ultima del fascino femminile o come a pelle l'aveva scoperta nell'amante cedutegli da Alessandro così anche Cinzia è il prodotto della sua immaginazione poetica e visiva il legame tra il piano dell'artista e quello del poeta è già segnalato nella seconda elegia del primo libro apparentemente il testo introduce il topos della natura contro la finzione Cinzia non ha bisogno di alcun artificio né di una pettinatura elegante né di sete trasparente di cos e non deve bagnare i propri capelli con profumo di mirra e senza dubbio le signore romane per bene facevano esattamente queste cose in quanto la natura non necessita di cultura e l'amore nudo non ha bisogno di alcun artificio il tema generale della superiorità della natura all'arte è analizzato anche attraverso il tema del colore la spontaneità dei colori offerti dalla terra l'arbutus che penso che sia corbezzolo una pianta molto comune sul golfo di Napoli molto bella è molto come qui rappresentato l'arbutus ha in fiori una grotta rimota i colori naturali dei sassi sulla spiaggia la dolcezza del canto degli uccelli Plinio avrebbe approvato questo elogio della natura eppure come ogni invettiva romana contro la luxuria ha un rovescio della madaglia l'esplosione di colori dei fiori porta inevitabilmente alla mente del lettore contemporaneo l'arte dei giardini romani che si serve dell'artificio per ottenere esattamente questo effetto e che attraverso un ulteriore livello di finzione viene proiettata sulle pareti come nel caso della villa di Livi a prima porta o la casa del fruttetto a Pompei è quella lì se andate a Roma c'è un mostro in questo momento che si chiama Pompei e Santorini e lì potete vedere esattamente lo stesso tema è una mostra un po' strana perché c'è pochissimo di Santorini e quello di Pompei non c'è un tema particolare oh abbiamo questi possiamo esporgli ma va bene potete vedere un bellissimo esempio di un giardino romano dipinto su muro per quanto concerne le pietre varie pinte sulla spiaggia esse creano nella nostra mente l'immagine di mosaici con la loro elaborata disposizione di tessere colorate solo solo un moralista rigoroso potrebbe guardare un capolavoro di opus lithostroton e lamentarsi del fatto che la spiaggia sia più bella cioè l'artificio vinceva sempre Properzio si rivolge ora all'autorità della mitologia cos'è ad aver spinto Castri e Polluce verso Febe e Laira figli di Leuchippo e così via gli esempi sono inquietanti in tutti e tre i casi ci troviamo senza dubbio di fronte al forto desiderio maschile per il corpo femminile con i suoi effetti curiosabili distruttivi ma perché utilizzarli come esempi del potere della bellezza naturale rispetto a quella artificiale la risposta ci viene offerta in questi termini sed facchies adarat nullis obnoxia ghemmis qualis apelleis est colo in tabulis e onestamente questo è talmente interessante che se ne potrebbe parlare per una mezz'ora che apelle è l'esempio della natura anziché dell'arte e infatti qui ci troviamo di fronte a qualcosa molto complesso Plinio discute a lungo l'uso dei colori da parte dei pittori e distingue ci sono colori naturali e altri colori artificiali è fondamentale per l'artista usare colori artificiali un bellissimo esempio vi do qui è questo prodotto chimico che hanno chiamato Platy of Thalmon che forse è un po' come Bella Donna c'è l'effetto di ingrandire gli occhi e se pensi delle rappresentazioni delle facce gli occhi sono spesso molto ingranditi forse hanno preso questo questo prodotto e forse piaceva semplicemente avere occhi belli grandi ok vi lascio sono tornato all'immagine dall'inizio e passo allo video ma prima di farlo mi faccio una pausa perché mi stanco di parlare domande abbiate coraggio se non fate domande a me io faccio domande a voi vi faccio tradurre tutti i passaggi che mi ho dato no non vogliono fare domande allora vado avanti passiamo ad Ovidio a questo punto il handhot diviene molto più lungo e ho scoperto che è molto difficile citare Ovidio soprattutto le metamorfosi brevemente ha bisogno di citare duecento trecento righe però ho messo quanto basta qua qui patet domitis romana potentia terris ore lega populi Ovidio chiude le sue metamorfosi con l'affermazione tanto convinta quanto tradizionale che la propria reputazione sia ormai consolidata il suo poema raggiungerà ogni angolo dell'impero e non sarà letto soltanto da un'elite ristretta e ristruita come è stato ripetutamente asserito da studiosi di affibitazione e cultura popolare romana scusatemi un po' di polemica qui ma mi stanco di sentire tutti quanti che dicono la poesia antica tutta la letteratura antica era un prodotto di un'elite fatto per essere consumato da un'elite e il popolo non c'entrava ma scusate Ovidio che cosa dice ore lega populi e invece di asserire continualmente che solo un'elite molto ristretto leggeva la letteratura guardiamo e vediamo come ha funzionato e spero di offrirvi un piccolo esempio di una risposta Pompei costituisce a questo proposito un caso studio ideale quanto Ovidio era effettivamente letto o conosciuto a Pompei e come possiamo essere in grado verificarlo il mio interesse qui risiede principalmente in questione di carattere metodologico non vi è infatti alcun dubbio che Ovidio fosse conosciuto e ammirato ma come stabilire l'effetto l'effettivo livello di diffusione e di apprezzamento dei suoi testi è la cosa straordinaria che mi ha sempre attratto a Pompei e possiamo vedere le case a tutti i livelli sociali è straordinario che la pittura non è ristretta per niente alle case più ricche ma si estende molto alle case piccole poco promittente e io vorrei sapere se la gente di un livello più basso hanno potuto apprezzare Ovidio la questione è stata oggetto di recenti studi tra i quali gli atti della conferenza di Padova gran poema delle passioni e delle meraviglie che bello dare un titolo così ma era una mostra mi sembra deve avere un titolo così e i contributi di Isabella Colpo l'articolo e dall'altro lato l'articolo di Peter Knox all'interno del Handbook to the reception of Ovid siamo costretti tutti quanti a leggere questi handbook manuali che come se fossimo tornando al periodo del del fine ottocento quando i tedeschi hanno prodotto tanti manuali noi abbiamo una nuova modo di manuale e Peter Knox parla e insiste che puoi trovare Ovidio sui muri di Pompei tornerò a breve sulla questione di criteri ma ora mi limito a dire che in linea generale molte delle tematiche discusse magistralmente da Ovidio rientrano tra i soggetti predilitti della pittura pompeiana qualche esempio un ruolo significativo è rivestito da Narciso presente in non meno di 52 pitture questa è un'altra cosa che colpisce che a Pompei tanti hanno fatto esattamente le stesse scene sui muri allora 52 di Narciso non è difficile immaginare che queste scene non è difficile immaginare queste scene come ovidiane sia perché il mito di Narciso è trattato da Ovidio in modo straordinario sia perché il racconto è relativamente raro negli altri testi almeno quelli tramandatici in un altro mito ben noto è quello di Arianna abbandonata da Teiseo in 28 esempi e trovata da Dioniso in altri 21 questo mito è decisamente troppo diffuso per consentirci di rintracciare gli effettivi gli effettivi gli effettivi gli effettivi modelli delle pitture ma è anche vero che Arianna compare tra le heroides di Ovidio il mito di Dedolo e Icaro è assai comune 11 esempi a Pompei ancora una volta la trattazione del mito nelle metamorfosi è troppo famosa per non pensare ad un rapporto di influenza Medea che progetta l'assassinio dei figli si riscontra in cinque casi e il suo soliloquio nella metamorfosi è assolutamente memorabile e Dio meliora provoque deteriora sequo e se si fosse conservata la tragedia della Medea che Ovidio ha scritto e abbiamo perso abbiamo perso e tutti quanti vogliono scavare la villa dei papiri ad Ercolano e ognuno ha un'idea di quello che vorrebbe scoprire io voglio la Medea di Ovidio forse penseremo al mito come ancora più Ovidiano e meno Euripodeo ci sono inoltre miti che raramente compaiono altrove in letteratura e per i quali Ovidio ha a posto il proprio marchio personale eccezionale è il caso di Piramo e Tisbi l'ultimo qui tornerò su questi esempi a breve a questo punto è necessario affrontare alcune questioni metodologiche qual è il livello di fedeltà al testo che si deve riscontrare in una pittura pompeiana per poter accertare l'influenza di un particolare poeta a partire dell'elegante saggio di Gian Piero Rosati Narcisso è divenuto l'emblema dell'autoriflessione ovidiana chiedo scusa Gian Piero ma penso che siamo per arrivare ad un accordo su questo non è semplice giustificare l'incredibile popolarità di questa iconografia a Pompei senza fare riferimento ad Ovidio specialmente dal momento che non possediamo prima di Ovidio una trattazione significativa del tema però potrebbe essere per caso chissà tra le numerose varianti pittoriche del racconto di Narciso troviamo un netto contrasto tra quelle che includono la figura di Eco e quelle nelle quali è invece assente dal momento che non compare nella versione tramandata dal mitografo Conone il quale la sostituisce invece con il giovane amante Ammenia Eco è vista come una variante introdotta da Ovidio e Knox sostiene che le pitture che la includono siano pertanto da considerarsi più Ovidiane e questo è proprio il mio problema gli artisti uno fa Narciso senza Eco e l'altro prende il testo di Ovidio no no questa è una bella cosa dobbiamo inserire Eco erano molto doti questi pittori no? Sembra all'quanto improbabile che Eco voce riflessa che si accompagna al volto riflesso di Narciso sia un elemento Ovidiano ma possiamo realmente considerare qualcuna di queste versioni come effettivamente Ovidiana cioè c'era un rapporto stretto tra pittore e testo o un'influenza tramandata da altri canali se vuoi una cosa di Ovidio devi cercare la metamorfosi è una cosa che compisci che nessuna di queste pitture trovi una metamorfosi dove è finito il Narciso nel quale il giovane si trasforma non c'è l'ombra di un fiore nelle pitture Colpo Isabella Colpo propone di leggere la metamorfosi di Eco nel gesto con il quale la giovane porta le dita alle labbra ma mi pare un'ipotesi di questo genere richiede un vero proprio atto di fede come puoi immaginare da questo gesto che diventerà un Eco non sarebbe più plausibile pensare che i pittori abbiano utilizzato una scena resa popolare da Ovidio e l'abbiano trasformata in qualcosa di nuovo e originale perché anche i pittori di Pompei avevano un piccolo po' di originalità Peter Knox solleva la medesima questione in relazione al caso di Polifemo e Galatea la ben nota versione oggi conservata al Metropolitan Museum di New York integra due scene distinte il primo piano ha c'ho un indicatore qui no au no ah sì ah che miracolo in primo piano il ciclope che si strugge d'amore e Galatea sul dorso di un delfino sullo sfondo e poi contrasto sullo sfondo il ciclope che scaglia un masso contro la nave di Odisseo come puntualizzato da Knox se la villa di Bosco Tre Case è datarsi alle undici dopo Cristo allora no alle undici avanti Cristo allora le sue decorazioni non possono aver risentito l'influsso di Ovidio o delle metamorfosi d'altra parte la versione del mito che troviamo nella casa di sacerdos amandos rispecchia modelli del quarto stile e si colloca circa mezzo secolo più tardi e dunque successiva ad Ovidio in questo caso Knox osserva che la figura del ciclope che aggredisce Odisseo sullo sfondo è scomparsa ma la nave di Odisseo è ancora lì mentre le affinità omeriche della storia sono state letteralmente rimosse e proprio questo secondo Knox a rendere il dipinto più vicino ad Ovidio questa tesi scatena una serie di possibili obiezioni Polifemo e Galatea evocano necessariamente Teocrito non Omero il fascino del rifacimento Teocriteio consiste nell'immaginare l'orco di Omero nelle vesti di giovane e patetico amante il carattere salace di una tale visione risiede nella tensione tra le due immagini di Polifemo l'orco e il giovane amante una versione del mito che rimuove letteralmente Omero dimostra allora di aver completamente frainteso il senso della storia possiamo forse dire che Ovidio abbia fatto lo stesso ma il poeta inquadra la sua e questa volta potete leggere il testo che vi ho dato sul handout il poeta inquadra la sua estesa e coinvolgente riallaborazione del mito nel contesto della storia di amore tra Galatea e Aci Polifemo è certo di riuscire a conquistare la sua Galatea e non ascolta gli ammonimenti Telemo tenta di avvertirlo che perderà un occhio lumenqui quod unum frontigeris media rapiet tibi dixet ulixes eh abbiamo dimenticato Omero Polifemo reagisce ironizzando sul fatto di aver già perso il suo occhio per Galatea lunghi dal rimuovere Omero Ovidio lo inserisce al centro del racconto chiunque tentasse di narrare la storia eliminando la minaccia di Odisseio sullo sfondo avrebbe tralasciato un espediente importante la pittura della casa di sacerdos Amandos ci presenta una versione tanto minacciosa quanto quella di Bosco tre case la nave di Odisseio un elegante trireme si scorge al di là del promontorio è una scena degna di Spielberg sentite la musica boom 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 eh non è necessario far vedere l'atto di buttare la roccia ma ci sono altri riferimenti a Ovidio nella versione più tarda io chiedo nella versione più tarda di Polifemo il pittore sembra lasciarci sfuggire un espediente dopo l'altro se nel caso che avesse il testo davanti agli occhi il Polifemo di Ovidio descrive il suo stesso aspetto negando con vigore la propria brutezza ha avuto modo di contemplare la sua immagine riflessa nell'acqua proprio come in Narciso e con il medesimo effetto è assai villoso dalle spalle irsute nec mea quod rigidis horret densissima saitis corpora turpi puto è fiero di di essere così setoso il ciclope del dipinto guardiamo il ciclope del dipinto non riesco a fare questo e a seguire il testo adesso ho perso interamente dove stavo ok il ciclope c'ha la pelle bruna non è affatto così irsuto e in ogni caso diversamente dal ciclope di Ovidio ha con sé la sua galatea che emerge dalle acque per guardarlo in Ovidio troviamo una lunga descrizione scusatemi non ho dovuto toccare in Ovidio troviamo una lunga descrizione dei prodotti della terra e del pascolo che il ciclope elargirà alla sua amata nel dipinto non vi è alcuna traccia di essi né tantomeno del antro confortevole che i due condivideranno ma soprattutto qualsiasi versione rispetto il racconto di Ovidio dovrebbero includere Aci il momento clou della storia coincide con l'istante in cui Polifemo colpisce Aci con un masso e il mare si tingi del rosso con il suo sangue un gesto che richiama e sostituisce per così dire quel masso scagliato contro Odisseo la scena ha un incredibile potenziale pittorico inoltre è proprio la metamorfosi a giustificare la presenza del racconto all'interno del ciclo posso pertanto concludere che il pittore non avesse letto Ovidio o non avesse comunque intenzione di riproporre la versione del mito di Ovidio veniamo siamo stanchi veniamo ad un ultimo esempio Piramo e Tisbe si tratta ancora una volta di un tema che sulla scala minore trova fortuna a Pompei dove illustrato in non meno di cinque case Nox fa notare che questo racconto metodologico non si conserva alcuna versione letteraria anteriore a Ovidio dice non può esservi altra spiegazione per la presenza di queste pitture se non il desiderio di mostrare una scena tratta dalle metamorfosi di Ovidio in questo caso mi trovo d'accordo con Nox tuttavia lo studioso pare non essere consapevoli del fatto che poco poco prima di lui Emmanuel Maia era giunto ad una conclusione assolutamente differente nella sua monografia che ho messo sul slide di Ancient Middle Classes la migliore rappresentazione di Piramo e Tisbe proviene dalla casa di Octavius Quartio Questa è la casa Nel suggestivo contesto del giardino tra ampie piscine fontane statue vi sono una serie di pitture riconducibili a Ovidio Narciso Arione e Diana e Orfeo che amalia con il suo canto gli animali sono tutti temi Ovidiani e come osservato da Maia a lungo le pitture del giardino sono state interpretate come i riff delle metamorfosi di Ovidio ma osservando accuratamente la figura di Piramo Maia nota una variante rispetto alla versione tradizionale presente nelle altre case e qui potete vedere i confronti se da un lato persistono una serie di elementi Ovidiani tra cui gli amanti disperati il gelso che acquisisce il colore grazie al sangue di Piramo il gelso sopra di loro e il lione compiaciuto sullo sfondo io amo questo lione c'è un bel sorriso sulla faccia vedete che cosa ho fatto però mentre in Ovidio Piramo si suicida credendo erroneamente che Tisby sia stata divorata da un leone nel dipinto il corpo del giovane mostra devo rifarlo chiari segni dell'aggressione del leone la paradossale inversione ovidiana in cui un singolo errore genera due inutili suicidi è sostituita da una storia in cui il leone uccide realmente l'uomo cioè non è più la storia di Ovidio questa osservazione mi pare cruciale la spiegazione di Maya è dettata dalla sua tesi centrale secondo cui avete capito la mia ossessione con questo tema secondo cui la classe media non condivideva i medesimi gusti letterari dell'elite lui crede che questo è di una casa di qualcuno che non è dell'elite il proprietario della casa apparteneva alla classe media e pertanto non aveva alcun interesse a discutere le metamorfose con i suoi ospiti solo l'elite lo faceva questo tipo di spiegazione mi pare contorta sia sul piano generale nel fatto che presuppone che l'interesse nei confronti della letteratura fosse limitato ad una cerchia elitaria ristretta sia nel dettaglio in quanto suggerisce che il proprietario di una casa guardate una delle case più grandi e riccamente decorati di Pompei possa considerarsi come non appartenente all'elite assurdo una spiegazione più convincente a mio parere proposta da Caterina Lorenz nel suo Bildermachenräume Lorenz nota un collegamento tra la figura di Ateone sbaranato dai suoi cani e un'estremità ad un'estremità della piscina Ateone lui era lì e Piramo di là e lui suggerisce che c'è un rapporto tra uno mangiato dai suoi cani e un altro mangiato da un leone non è male come spiegazione va bene sono quasi quasi alla fine torno al mio dubbio metodologico quali sono i criteri attraverso i quali si può stabilire che un poema abbia direttamente influenzato una rappresentazione pittorica dobbiamo cercare corrispondenze univoche è l'unico esempio che conosco è questa bellissima rappresentazione di Enea ferito che segue il testo parola per parola molto molto precisamente cioè loro sapevano come farlo volendo ma dobbiamo insistere su questo o possiamo accontentarci di connessioni più generiche faccio l'esempio di Apollo e Daphne fra le tante rappresentazioni di questa scena a Pompei non si incontra mai la metamorfosi stessa la mia versione preferita è quella della casa di Efebo sulla destra nella quale Apollo sembra porgere a Daphne un ramocello di alloro quasi una sorta di pegno di amore ma non è che lei diventa la loro tuttavia che cosa è questo ribadisco che in nessuno di questi casi Daphne si trasforma effettivamente in una pianta c'è un artista che sembra aver pienamente compreso il video e Bernini al contrario delle rappresentazioni antiche Bernini è l'unico a soffermarsi sul processo fisico della metamorfosi sulle ditte delle quali spuntano germogli sul corpo che si trasforma in un tronco e sul conseguente frustrazione delle avanze amorose del Dio capite il mio scetticismo però io vedo una soluzione a questo problema immaginiamo e questo è un pittore che si chiama Lucius come funzionava il proprietario della casa ha detto vieni Lucius sto leggendo un video qui e mi piace tantissimo mi puoi rappresentare questa scena qui no dai Lucius non c'è tempo di fare questo no c'è un'alternativa Lucius è andato al teatro all'epoca di Nerone è facile dimenticare il ruolo cruciale svolto dal teatro nell'ambito dei processi di trasmissione culturale all'epoca di Nerone fase alla quale appartengono molte delle pitture in questione la danza e la rivisitazione drammatica di racconti metodologici erano talmente in auge che l'imperatore stesso si esibiva con grande entusiasmo la nostra conoscenza della pantomima romana è sfortunatamente troppo scarsa nonostante Luciano che ci garantisca che doveva coprire l'intero repertorio mitologico Svetonio ci racconta come Nerone stesse assistendo ad una rappresentazione di Icaro quando fu macchiato da schizzi di sangue al momento in cui Icaro si schiantò sul palco l'imperatore stesso si esibì anche nelle vesti di Canache che partorisce del matricida Oreste del cieco Edipo nonché di Eracle in preda alla folia Nerone canto inoltre il turno di Virgilio che i testi ovediani costituissero un repertorio importante per il teatro romano è chiarito esplicitamente dal poeta stesso il quale nei tristi afferma La messincena dei suoi versi sul palco al cospetto dell'imperatore offre una prova della sua innocenza scriberi si fassest imitantes turpia mimos materiae minores debita poena meae et mea sunt populo saltata poema poema saip 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 oculis etiam detinueri tuis anche augusto forse seguiva ovidio ovidio piuttosto in teatro che nel testo che nel testo diversi studiosi si sono interrogati su quale possa essere la sezione del corpus ovidiano nella quale il mimo trovava i suoi modelli sono state proposte asamatorie eroide metamorfosi jennifer inglehart ha recentemente dimostrato che alcuni dei miti trattati nella metamorfosi sono annoverati da luciano e altri autori tra i temi predilitti dal pantomima dalla pantomima ma anche senza dover provare una tale connessione siamo comunque in grado di affermare che il mondo del teatro fosse ampiamente consapevole del ruolo cruciale di ovidio quale fonte di ispirazione per scene e spettacoli e che questo più di ogni analisi del testo giustificasse l'eccezionale popolarità delle scene ovidiane nella decorazione delle case pompeiane ciò spiegherebbe inoltre il motivo per quale il rapporto tra testo e immagine non risulta in definitiva così diretto e tramandato più vagamente utilizzare la popolarità di ovidio a pompeo come indice di conoscenza letteraria mi sembra un procedimento metodologicamente scorretto ma è inutile anche ricordarci ma è utile anche ricordarci che l'accesso al mondo della letteratura classica non si limitava alla lettura dei testi ma poteva raggiungere il vasto pubblico del teatro la gente di Pompei la gente banale di Pompei siamo troppo condizionati dalle idee che nel mondo romano l'accesso alla letteratura fosse simile a questo dei nostri giorni ossia limitato ad un'elite cicoscritta e istruita dei licei classici questo ci porta a sottovalutare i canali culturali attraverso cui in antichità cose come anche oggi pensiamo della televisione il mondo della letteratura poteva aprirsi a cerchie molto più ampie sfruttando una vasta gamma di mezzi di comunicazione e rappresentazione grazie e scusatemi grazie molte grazie per questa ricchissima lezione che solleva molte curiosità molte domande appunto sollecita io ne ho da parte mia ma prima immagino che ce ne siano altre quindi lascerei intervenire altre voci se non ce ne sono comincio io io non accetto di venire alla scuola normale di Pisa e trovare un pubblico senza domande certo no no non si può accettare avendo detto tante cose controverse no io partirei invece ti chiederei una serie comincerei sulla prima parte tu hai parlato di due poeti due poeti elegiaci Properzio e Ovidio e hai mostrato la importanza della cultura visiva cioè l'importanza degli occhi in questi due poeti io mi chiedo visto che tu ami guardare le cose in un'ottica più ampia rispetto ad altri poeti augustei legati ad altri generi come Virgilio e Orazio ti sembra che il genere elegiaco in quanto tale solleciti una percezione diciamo visiva del mondo prevalentemente visiva cioè che sia il mondo della città in cui le sollecitazioni agli occhi sono più forti più attive che trova risposta nei poeti elegiaci cioè mi chiedo rispetto a Orazio e Virgilio appunto questa attenzione la preminenza dell'occhio insomma il piacere dell'occhio è più forte direi si può dire in generale forse e c'entra onestamente non vorrei dirlo si Orazio lasciamo parte ma si utpictura poesis certo dice che che Orazio era conscio che erano paralleli erano paralleli ma poi nella realtà della sua poesia dico l'appello all'occhio la centralità dell'occhio è altrettanto forte che in properzio forse Orazio è troppo coinvolto con la musica è un'altra sfera che è importante per lui ma il problema interessante è Virgilio perché sappiamo benissimo che Virgilio era molto molto popolare e anche i graffiti di Pompei lo dimostrano chiaramente e io sono sempre rimasto colpito dell'assenza di immagini che risalgono a Virgilio a parte quello che vi ho fatto vedere cioè erano capaci di farlo e possibilmente ci sono Enea di Don in qualche rappresentazione ma è poco chiaro ma si potrebbe immaginare tutta una serie di scene virgiliane rappresentate a Pompei e forse la risposta che esattamente quello che dico che gli artisti non volevano prendere il testo e controllare lì c'era un comitente che ha detto io voglio precisamente questo ma questo era molto raro e hanno sempre preferito affidarsi ai miti ben conosciuti sempre quello che ci manca è l'intero repertorio dei miti ellenistici rappresentati nell'arte greca ma sicuramente c'era uno sfondo enorme e forse i pittori romani potevano modificare questo repertorio greco in rispetto ad un poeta latino ma era sempre più facile continuare nella tradizione vecchia sì forse appunto questo si intreccia con la seconda parte il discorso su Ovidio e sul rapporto diretto con il testo Ovidio è stato sfruttato molte volte per questo per istituire questi rapporti diretti tra il suo testo e le immagini in una direzione o nell'altra ma sempre un rapporto diretto tu giustamente insisti sulle possibili mediazioni che ci sono tra le immagini appunto e tra il testo e le immagini se c'è il teatro ci sono altre forme quello che io mi chiedo appunto è noi possiamo farci un'idea di quanto di che grado di autonomia il pittore avesse cioè il pittore appunto probabilmente non gli veniva commissionato a meno che appunto tu dici non fossero committenti di alto livello che volevano avere in casa una pagina di Ovidio rappresentata su una loro parete negli altri casi mi chiedo i pittori che agivano di propria iniziativa probabilmente avevano un loro repertorio mentale di immagini che avevano visto in molti casi a teatro o avevano forse anche letto abbiamo idea di quanto fossero acculturati e quindi di che rapporto avessero diretto con i testi oppure anche loro dovevano subire le sollecitazioni di altre forme di comunicazione come appunto il teatro un esempio interessante sarebbe la casa del menandro dove ci sono le scene del del Eliade del ciclo troiano che troviamo in Virgilio ma colpisce che appartengono a questo ciclo molto greco con tante rappresentazioni prima di Virgilio e non è chiaro per niente se il comitente ha detto ho letto questo meraviglioso secondo libro di Virgilio e vorrei no questo ovviamente non possiamo allora onestamente è una cosa che sfugge e forse sto provando a dimostrare due cose che si contraddicono che c'era un rapporto e che non c'era un rapporto perché tu presupponi una mediazione e quindi non si contraddicono di fatto è possibile appunto che ci fosse un rapporto che a tempo stesso fosse un rapporto mediato sì sì certamente sì e poi mi incuriosiva molto il discorso sulla pornografia appunto perché è vero che c'è spesso in questo tema appunto che ritorna in properzio ma c'è per esempio in terenzio nel nell'eunucus mi pare questo gusto dell'uso delle immagini in casa un uso domestico e privato di immagini che rappresentano che cosa un'ispirazione perché sono di solito modelli mitologici modelli mitologici appunto e qual è il piacere del vedere queste immagini di modelli elevati modelli alti appunto non sono personaggi qualunque che fanno l'amore ma sono personaggi del mito appunto perché loro appunto perché questo gusto di identificarsi medesimarsi in personaggi nobili quasi che fosse che diciamo ci fosse il gusto del vedersi nei panni di un eroe del mito appunto è una fantasia di potere è una fantasia di come dire auto innalzamento di chi guarda queste immagini quindi se le mette in camera da letto come noi sappiamo come i padri della chiesa poi lamentano perché appunto è un modo di ma forse si forse si tratta anche del rango sociale se sei Tiberio sì non è che puoi avere una copia di qualsiasi rivista pornografica certamente nella tua camera da letto no? ma un parasio va benissimo Giulio Romano ha fatto lo stesso per i papi no? e l'arte la mediazione è un tipo di alibi si coprono perché questo è un artista famoso ma rimane il problema che tanti hanno provato capire dove nella casa loro hanno messo certi certi tipi certi tipi di rappresentazione c'è un tipo adatto al al cubicolo un altro al triclinio e si potrebbe immaginare che le scene pornografiche che si trovano solo nei cubicoli non è così non è così è molto esistono esempi dove c'è un cubicolo con solo scene pornografiche certo ma trovi come quel straordinario esempio che non era molto pornografico però è abbastanza esplicito basta per dare offesa al pubblico che si trovavano ovunque nella casa non c'è una divisione tra pubblico e privato neanche qui domande prego grazie per l'intervento mi è piaciuto anche molto a me l'ultimo spunto finale sul teatro e quindi come centro propulsore insomma di immagini e di mediazione rispetto all'attività dei pittori e diciamo mi è venuta in mente un'ipotesi insomma che si riferisce ai vasi taglioti comunque alla ceramografia in generale che quindi si rifà in alcuni casi a specifiche scene di tragedie e commedie non so per esempio mi viene in mente questo cratere di Wurzburg che riprende direttamente Aristofane quindi il tesmo fuori a Zusa e quindi diciamo dei riferimenti specifici a dei testi specifici e una delle ipotesi principali per spiegare questa raffigurazione è che appunto i pittori e i ceramografi si siano recati a teatro quindi è molto interessante anche da questo punto di vista e quindi volevo chiedere ci sono degli indizi casi diciamo rari io non lo so da questo punto di vista che insomma testimonierebbero un influsso diretto del teatro su alcune pitture cioè degli indizi proprio iconografici sì capisco che effettivamente è molto labile la distinzione come si parlava prima dell'autonomia del pittore nel rielaborare di quanto sia stato influito ma non so se ci siano degli indizi precisi da questo punto di vista grazie sì grazie nella domanda molto interessante quello che è chiaro che il teatro ha fatto un impatto notevole a Pompei ci sono dozzine di rappresentazioni di scene teatrali per esempio esiste una casa che si chiama la casa dei quadri teatrali perché c'è una serie di mi sembra otto scene teatrali e poi è ovvio che c'era un teatro a Pompei allora una connessione deve esserci più preciso di questo è difficile essere ma sto pensando di un altro esempio sono stato a Lipari e sono rimasto molto colpito dalla collezione straordinaria di maschere che hanno nel museo di Lipari e quasi tutti quanti sono sepolti con una maschera e la serie non mi ricordo 50 diversi tipi di maschere cioè il teatro faceva una parte fondamentale della cultura loro e in un certo senso quello che vorrei recuperare per la cultura romana tutti quanti sappiamo che ovviamente democrazia greca Atene si seguono il teatro ma poi perché odiamo la pantomima pensiamo di Natale e delle cose assolutamente banali e anche pensiamo del pubblico romano come ignorante di bassi gusti ma esisteva per educare anche per e vedi Trimalchione vedi il desiderio del romano anche se è nato schiavo di acquistare un po' di questa cultura secondo me la cultura esiste per essere condivisa non da poche persone ma da una sezione notevole della società posso dire solo questo grazie se non ci sono in questo momento dei studenti faccio io una piccola domanda ringraziando il professore di questa geniale lezione che mi però lascia perplesso soprattutto nella parte che riguarda Ovidio e soprattutto per motivi metodologici tu vuoi indicare la derivazione di questi dipinti da Ovidio il problema è che sono pieni di contraddizioni e non sembrano rispecchiare Ovidio allora inserisci tra Ovidio e questi dipinti la pantomima purtroppo noi dei particolari della pantomima sappiamo nulla non sappiamo per niente come questi miti sono stati rappresentati nella pantomima perciò inserire questi come spiegazioni per le differenze tra Ovidio e dipinti vuol dire spiegare obscurum per obscurios dal punto di vista metodologico mi sembra difficilmente convincente un'altra possibilità è non derivare i dipinti direttamente o indirettamente da Ovidio ma dire che Ovidio era un testo tra tanti altri racconti orali e scritti greche e romane in tutti i tipi per noi Ovidio sembra il centro del mondo per loro forse era una versione tra altri e non non c'era il caso che uno si metteva lì e chiedeva al pittore di illustrare Ovidio e se si chiedeva al pittore di illustrare un mito il pittore prendeva il manuale di pittura che aveva e che andava indietro da secoli e faceva quello e se c'erano differenze con Ovidio pochi lo notavano per cui mi sembra più divertente che convincente la tua proposta ma il mio modello non è che il comitente manda il pittore al teatro e dice devi trovarmi una bella scena per mettergli sulle mie pareti ma la domanda è piuttosto come mai è venuto in mente di chiedere di scegliere Piramo e Tisbe è una risposta possibile che Ovidio ha fatto un impatto diretto che tanti stavano leggendo Ovidio e perciò hanno scelto anche senza guardare in dettaglio che cosa esattamente dice Ovidio ha reso più popolare questo mito e la mia spiegazione è semplicemente offre un canale per rendere popolari i miti che non è semplicemente leggendo testi cioè io vedo come un'attività parallela e anche un modo di fondere i gusti essendo un po' scettico di quanto hanno letto i proprietari pompeiani io preferirei immaginare che qualcosa del teatro ha fatto un impatto ma senza mandare il pittore al teatro senza e poi lui si riferisce al repertorio di scene che esistono e ma certo che puoi avere Piramo certo che puoi avere Narciso il motivo fondamentale per scegliere Narciso era il fatto che il tuo vicino di casa aveva Narciso anch'io vorrei e non possiamo immaginare che ogni volta sono tornati ad un testo per controllare che cosa metti nella pittura allora forse la connessione che vi offro è ancora più vaga ma è vero che la pantomima è oscura in un certo senso ma è chiaro che era importante per loro e noi dobbiamo capire il mondo antico non solo con questo che possiamo prendere chiaramente ma anche con la consapevolezza consapevolezza di altre cose che non vediamo bene solo questo io non so vedo dall'espressione che non sono riuscito a convincerla ma questa è la mia risposta sì è chiaro che c'è forse ho dovuto aggiungere anche altri elementi che la pittura romana a casa la decorazione romana prima di augusto era molto diverso le scene mitologiche erano esistevano ma erano molto rare e questa è la grande differenza tra cosiddetto secondo stile e terzo stile che subito tutti quanti vogliono avere i miti e questo non è secondo me il risultato di Ovidio è una cultura condivisa ma una cultura nella quale i miti greci sono diventati fondamentali come una cultura condivisa dai romani salve grazie mille e mi chiedevo se non fosse possibile per cercare di incrementare con nuovi dati questo percorso estendersi anche al contesto funerario e in questo caso possiamo tranquillamente stare a Roma e cercare anche di capire se visto la presenza anche se più rara rispetto alle case comunque del mito della letteratura negli affreschi di alcune tombe come anche poi in seguito dei sarcofagi e vista che spesso siamo molto più certi della bassa tra virgolette bassa committenza di questi defunti rispetto ai proprietari di case che abbiamo dati prosopografici molto più diciamo lacunosi quindi se anche stendendo un po' lo sguardo a quello che succede nel repertorio funebre quindi nelle tombe che a livello di autorappresentazione avevano una funzione altrettanto importante delle domus non sia possibile aggiungere o togliere qualcosa rispetto a questo tentativo di ripercorrere la diciamo l'influenza diretta o indiretta anche in quel caso abbiamo committenti artisti e quindi magari poteva aiutare un po' nella panoramica ecco grazie una domanda molto interessante intrigante non so che cosa dire ma mi compisce che il mondo funerario sia a Pompei sia molto diverso dal mondo domestico e puoi trovare rappresentazioni ma sono di un tipo di una tipologia assolutamente diversa gladiatori scene di della ricchezza della della persona argento ma io non conosco un esempio dei miti in quel contesto ma forse non stava dicendo questo questo forse ci può aiutare anche a capire i motivi di determinate scelte e la differenza fra il ruolo di Roma rispetto alla ricezione nelle altre città visto che comunque si può presentare uno stesso tipo di rapporto committente artista volontà di autorappresentazione e visto che a Roma abbiamo comunque la presenza di scene letterarie nelle tombe e non a Pompei quindi mi chiedevo se potesse essere aggiunto questo strumento contesto sì è strano perché ho lavorato sulle tombe di Pompei in un altro contesto e non riesco a mettere insieme queste cose che dimostra che l'uso dei miti è un fenomeno della domesticazione romana cioè c'è 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 una scelta di certi tipi di rappresentazione che va benissimo per la domus e questo include la pornografia che rispecchia il mondo pubblico nel senso di di questo non ho parlato molto delle gallerie ma c'è c'è questo libro di come si chiama i nomi mi sfuggono il museo di Augusto Peter Heslin Peter Heslin ha provato a dimostrare che che sì il porticato del tempio di di Apolline a Pompei è una riproduzione di un porticato a Roma che è possibile ma abbastanza azzardato ma che potevi trovare questi stessi miti in contesti pubblichi pubblici questo è chiaro allora non è solo limitato al mondo domestico ma non c'entra con il mondo funerario non so perché abbiamo esagerato con i tempi se non ci sono allora molte grazie alla professora non c'entra l'esagerato dell'esagerato grazie grazie grazie